...Meglio gamers, chi riesce a vedere per più tempo il suo videopitch e la cera? Ok, dovremmo esserci, dovremmo, ho partito. Ancora una volta, ciao ragazzi e ben... Cazzo! Get on, bitch! Cazzo e ben, ritornati! Ehi, aspetta, non ho messo la musichetta simpatica, ecco, ora ce l'ho. Dai! Sono queste cose, dai! Dai, ancora in giù! Cora in giù? Giù dove? Fè, fè, c'è dentro. Ma dove? Ah, qui, corri qui, corri qui! Che cosa hai visto? Vieni, 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 stavo scavò! Vieni! Da chi l'hai trovato, stai? Qualcosa l'hai visto? Ferro! Bravo! Eh, mi passi il piccone! Mi hai fracassato il coglione, no? Ora, possiamo iniziare. Prima di tutto, oltre a evitare di preparare come dei cazzoni, io direi... Ah, oh mio Dio, credo! Ragazzi, tenete gli occhi aperti, perché le cose sono iniziate nel verso giusto o sbagliato, non lo so. Ma vediamo se stiamo con noi giù, no? Eh, c'è, bravo. Ehm... No, andate all'aprile! Che cosa? Che cosa? No! Ah, no! Non ci sono i cazzoni! Io non mi aspettavo che la cosa andasse così. Cioè, io pensavo che succederà qualcosa di strano. Però... Ma inca... ho creato io ho creato